L'Associazione Ambientalista Maremico di Agrigento, in collaborazione con l'Istituto Tecnico Commerciale Leonardo Sciaccia, ha provveduto alla pulizia della spiaggia di Maddalusa lo scorso sabato. L'Istituto, diretto dalla dirigente scolastica Milena Siracusa, ha messo a disposizione ben 235 studenti e la ditta BRG dei Fratelli Bruculeri ha fornito un mezzo gommato, potendo realizzare la più grossa operazione ambientalista degli ultimi anni. Dalla spiaggia di Maddalusa sono stati prelevati 22 copertori insabbiati, da diversi anni rifiuti ingombranti, oltre 100 sacche di plastiche varie. Nella vicinanza scorre il fiume Acragas, uno dei luoghi più belli della nostra costa, che durante le piogge scaricano quantità di rifiuti che poi si ritrovano proprio nelle spiagge agrigentine. Gran parte dei rifiuti che noi troviamo in spiaggia arrivano attraverso i fiumi. I fiumi raccolgono durante le piogge le discariche che hanno accanto e vomitano tutti questi rifiuti in mare. Poi le mareggiate le trasportano in spiaggia e noi li troviamo lì. Purtroppo le amministrazioni si occupano soltanto della pulizia superficiale degli arenili durante la stagione estiva, lasciando in spiaggia i rifiuti ingombranti. È compito delle associazioni e del volontariato andare a raccogliere con l'aiuto degli studenti nell'ambito di un programma di educazione ambientale.